Allora, buonasera a tutti, siamo a Cagliari. Questa è la canna, si vede poco ma è in pesca, quello in cima è lo starlight e questo è lo spettacolo che si vede, il porto di Cagliari. Siamo in pesca con Luciano Mereu, Rocco Scharcella, Ciccio Famà e Paolo Mereu. Serata magnifica, un po' di maestrale ma tanto quanto basta. E' uscito fuori un zarago da trietti, due o tre sparli e aspettiamo come va la serata. La lucetta che vedete in basso, quello è lo starlight e la canna e sto pescando all'edgering a Dopor. Aggiorniamo tutto, ciao ragazzi. Grazie a tutti, grazie a tutti.